Mi sembra un po' una costrizione perché non lo trovo corrette, si potrebbe o si dovrebbe poter scegliere sia averlo o non averlo, credo, almeno quello, però purtroppo non abbiamo più tante voci in capitolo. Io penso che sia una cosa anche giusta diciamo perché se mi sposto da un posto all'altro almeno sono sicuro. Ritengo che sia uno strumento utile per contenere un attimo questa situazione di contagi effettivamente, quindi da un po' più di garanzie. Io avendo anche vissuto all'estero il bisogno di comunque intrattenimento, comunque di semplicemente muoversi, penso sia importante, quindi assolutamente io sì sono a favore. Penso che sia una cosa per la società utile un po' per tutti per poter capirsi purtroppo da questo problema che non è colpa di nessuno e bisogna trovare una soluzione almeno per stare in società. Giustissima è necessaria perché se uno vuole muoversi, se ha i requisiti richiesti può muoversi tranquillamente. È un po' discriminatorio secondo me come tutte queste restrizioni che ci hanno imposto, però ci atteniamo alla situazione sanitaria e vediamo l'evolversi. Penso che sia una buona idea e non vedo francamente questa faccenda del discriminatorio. Sarà meglio che almeno un po' l'industria del turismo riparta piuttosto che per ragioni di discriminazione no, tutti fermi. Se è una cosa che serve per ripartire, per poter di nuovo viaggiare eccetera, ok.